allora qua una penna stilografica della azienda spagnola indigrap sapete sono quelle stilografiche che permettono di montare sulla penna quindi di caricarla anche degli inchiostri ostici come appunto gli inchiostri di china io le ho caricate con gli inchiostri di china vanno veramente bene nessun problema poi avevo fatto anche una recensione sulla su questa indigrap l'ultima che uscita che monta diciamo il pennino vedete il pennino a punta sottile flessibile e flessibile lo è davvero perché vedete posso fare dei fini e dei tratti decisamente più contrastati però se vi ricordate avevo detto che difatti la indica se l'era anche un po presa ma secondo me in maniera del tutto gratuita perché avevo detto non va molto bene per fare il corsivo inglese perché ha dei fini troppo spessi che sembrano come le di una nave e comunque ho un ritardo nella chiusura dei rebbi alla posizione di quiete quindi oltratto inferiore e che dovrebbe essere fine ancora largo perché il pennino non chiude bene subito in maniera repentina ecco però sono riuscito a ovviare molto bene a quel problema come ho fatto semplicemente facendo un inchiostro ad hoc un inchiostro più denso un ferro gallico diciamo a rilievo colorato e blu allora andiamo a vedere cosa succede con l'ovale stavolta vedete c'è stato uno sfilamento poi sempre è sempre un po più grande però decisamente più gradevole decisamente più gradevole la differenza è davvero minima e a questo punto posso posso fare il corsivo inglese il fine stavolta quasi non lo vedo grazie a tutti eccolo qua quindi è un inchiostro che poi resta anche a rilievo scusate insomma le riprese sono fatte col telefonino perché l'ho voluto fare velocemente non avevo possibilità di montare tutta la camera insomma si vede molto bene questa cosa che insomma adesso con questo inchiostro che poi va benissimo anche per grafie quotidiane perché questa è la sua lezione ma bellezza che questo è un inchiostro che resta a rilievo ok ok ok